Ritorna al teatro contemporaneamente ai suoi successi in televisione e in radio con un one man show Max Giusti. Ritorna al teatro Zappalà presentando i suoi personaggi più famosi. Ha iniziato insieme ad Amanda Lire con cocktail d'amore per poi passare a quelli che è il calcio ed è entrato nelle case di tutti gli italiani con affari tuoi. Per voi Max Giusti. A Palermo dopo quanto tempo? Ma credo di essere stato l'ultima volta qui, con se il tempo fosse un gambero penso dieci anni fa, dieci o dieci anni fa, dieci anni fa credo. Quindi Max Giusti ha fatto adesso dopo dieci anni ha fatto un percorso artistico enorme perché insomma sono passati tanti anni, è arrivato all'Arrai, è iniziato dal teatro. È arrivato all'Arrai. All'Arrai. E mi do abituare ancora l'R palermitana che è fortissimo. Tu hai iniziato dal teatro? Ho iniziato dal teatro, ho iniziato dal cabaret. Io ho iniziato all'Alfellini di Roma nella stagione 84-85. Avevo 16 anni e mezzo e sono entrato nella compagnia stabile. Mi ricordo che guadagnavo 30.000 lire a settimana. Inizialmente niente. E poi da lì è partito tutto questo percorso che mi ha portato a fare cose diversissime fino ad arrivare qua. Quando hai capito che stava succedendo qualcosa che ti poteva cambiare, che ti stava cambiando la vita? Guarda, per assurdo il segnale del grande successo è stato proprio con Malgioglio. Quando si era a fare un programma con Marco Giussi, si chiama Cocktail d'Amore, eravamo io a Mandalir e da lì ho cominciato a fare la parodia di Malgioglio. E se ne parlava, se ne parlava. Per caso, io non volevo farlo quel programma. Non mi piacciono alcune cose, non ero più d'accordo. Poi a un certo punto si andava a truccare e diceva che facciamo. Non mi dava in mente niente. Mi stava così antipatico come Malgioglio, che invece poi è diventato uno squisito amico, che saluto, che un po' mentre mi truccava facevo mai sono uguale. Cominciava a parlare. Quando mi sono visto è uscita anche la voce. Veramente con questo cappello puoi fare quello che vuoi. Veramente, guarda, veramente. Senti, se dovessi dare un aggettivo a tutto quello che hai fatto, ad esempio teatro, un aggettivo veloce per quello che sei, attore. Sudore. Televisione? Televisione è soddisfazione e pressione. E radio? Radio è libertà. Doppiatore? Doppiatore non lo farei mai se non facessi Cattivissimo me. È stato un cartone che mi ha portato tantissima fortuna, non è stato solo regolo di casi per me, ma è stato un cartone che è arrivato nella mia vita, il suo primo, il più Cattivissimo me, quando stava nascendo il mio primo figlio. Mi ha riportato l'odore di bucato. Ecco, quindi doppiatore in questo caso posso dire odore di buono. E senti, ora che sei diventato un personaggio di punta anche della Rai, diciamo, come presentatore, il sogno è Sanremo? Sanremo. Beh, è rimasto l'ultimo programma dove ci stanno i soldi, quindi dico Sanremo. Sanremo è difficile trovare nuovi formati. Dopo aver fatto una corazzata come a fare i tuoi, io volevo un po' mettermi alla prova e anche perché insomma ho voluto un po' ascoltare il pubblico e ascoltare un po' il teatro. Io manco dal teatro da, praticamente con una vera tournée, da sei anni. Quindi alla fine tornare... Ti stai rigettando felicissimo. Felicissimo, ma dopo un anno e mezzo che farò teatro vorrò rifare televisione, dopo un anno e mezzo che farò televisione voglio fare la fiction, io non voglio fare le parodie, sono così, però cambiando sicuramente si impara molto. Senti, l'hai detto in conferenza stampa e poi ti lascio, ti hanno fortemente voluto qui al teatro Zappalà, hanno voluto Max Giussi, sono stati dietro a Max Giussi un bel po' di tempo e hanno avuto la pazienza di aspettare e comunque insomma ci siamo riusciti. Quindi una settimana con questo spettacolo... Due settimane. Due settimane che inizia qua, proprio da Palermo. Sì, inizia da Palermo, sarà l'unico appuntamento siciliano e è proprio l'inizio della turna invernale. Abbiamo fatto solamente tre appuntamenti prima, poi la pausa per la papera e ripartiamo da qui. Ho detto partiamo da qua per arrivare fino a Milano, a Roma, a Torino, a Mestre, a Trieste, un tour enorme, ma a partire da qui è partire con una scommessa. Ricordatevi che cos'era questo posto vent'anni fa. Poi un sindaco ha detto proviamo a restituire alla città un luogo, una famiglia di teatro ci ha messo tutto quello che ci aveva, la pastione innanzitutto, ma il tempo, la vita, il sangue e io mi sono detto ma perché non andare a Luzza a Palermo? Ma perché no? Eccoci qua, vediamo che succede. Tanti personaggi, insomma, quelli che più ovviamente ti hanno dato successo, qualcosa di nuovo arriva? Sì, sto preparando adesso un ragazzo che fa praticamente le interviste in una televisione, mi devi portare a Toita. A Toita, no. A Toita. O Pane Cameo. O Pane Cameo. Sai che il mio truccatore, che è Peppe Tripoli, che è statuto per anni palermitano, grande truccatore, Giuseppe Tripoli, siamo a Giuseppe Tripolino, un uomo che si è conquistato la vita partendo da Palermo, dei più grandi truccatori, gli tirando il cappello. Una volta mi parlava sempre di O Pane Cameo, O Pane Cameo, O Pane Cameo, vengo a fare un collegamento da Palermo, a Rai di Palermo e faccio comprare 20 panini con la Meusa l'ho morso e non mi piace. Se ne frega. No, perché eravamo allo studio di là, a un certo punto è andato Vissani, ha visto il barbongino, ha fatto all'agnello, lo facciamo flampe, invece il cane è scappato con le talendolo. No, guarda, io mi scusso. Devi smettere di interrompere questo mio programma. Allora, ti facciamo in bocca al lupo. Crevi, lo aspetto tutti a teatro. Sicuramente i palermitani risponderanno per come sono. Guardate, c'è una sola cosa, c'è un solo stemma che ho aspettato, lo uscirete così. Grazie a tutti. Grazie a tutti.